Il 21 giugno si celebra la diciassettesima edizione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie e linfomie mieloma posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. La giornata sarà un'occasione speciale per illustrare i rilevanti progressi della ricerca scientifica e per essere ancora più vicini ai malati e emato-oncologici, adulti e bambini attraverso attività di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio. Ricco il calendario degli appuntamenti messi in campo anche nella città di Salerno, dove la sezione Marco Tulinieri dell'AIL ha promosso per oggi e domani un weekend dedicato alla donazione di sangue al centro trasfusionale dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, risorsa preziosa per i pazienti ematologici e non solo. Martedì 21 giugno invece ci sarà il Fit Walking Solidale, il primo di una serie di eventi del progetto Movimentail, volto a promuovere il benessere, lo sport e la sana alimentazione come strumenti di prevenzione. La camminata sportiva su Lungomare di Salerno, fissata con partenza alle 18.30 di martedì da Piazza Dante Alighieri su Lungomare Trieste, è organizzata in collaborazione con Fit Walking Salerno e ASD Atletica Salerno e ha tra l'altro lo scopo di invitare la cittadinanza a testimoniare con la propria partecipazione, anche simbolicamente, la vicinanza e il sostegno ai pazienti nel loro percorso di cura e sostenere la ricerca sui tumori del sangue. Una data importantissima è la giornata nazionale contro le leucemie, linfoma e mieloma, è una giornata patrocinata dal Presidente della Repubblica dove ci sarà un numero verde nazionale a cui risponderanno tutti i più bravi ematologi d'Italia per tante domande per i pazienti, ma è una giornata in cui noi dedichiamo al paziente. Il paziente ematologico è stato molto lasciato solo durante questo periodo di pandemia e ha bisogno di sentire la vicinanza della cittadinanza di tutti i salernitani. Quindi il Salerno ha deciso di promuovere queste due iniziative, la donazione sangue che è importantissima per i pazienti ematologici, solo i cittadini salernitani possono aiutare in questo prezioso dono. Il sangue è un dono e può essere donato solo dalle persone solidali. L'altra attività è il Fit Walking Solidale, un'attività che abbiamo pensato di promuovere per far partire un progetto, il progetto di movimento AIL, un progetto sportivo che promuove l'attività sportiva per i pazienti che hanno finito le terapie, che hanno bisogno di rinserirsi nelle attività quotidiane, di riprendere la loro vitalità, il loro benessere e partiamo appunto con questa passeggiata solidale in cui ci saremo tante persone, volontari, pazienti, medici, tutti insieme per lottare contro le leucemie, linfome e mieloma e per sostenere la ricerca. Questi due anni di pandemia quanto hanno pesato sui pazienti e soprattutto ci sono dati che allarmano oppure la situazione è più o meno stabile rispetto agli anni passati nella cura e nella diagnostica soprattutto? Allora, questi due anni sono stati veramente difficili, difficili e complessi perché se solo pensiamo che per esempio i parenti non possono più venire in ospedale al fianco dei pazienti. Noi abbiamo persone che sono in ospedale anche 60 giorni, 60 giorni lontano dalle famiglie, lontano dai parenti, dagli affetti. È veramente qualcosa di straziante. Io che vado in ospedale come psiconcologa ho assistito veramente a delle cadute psicologiche importanti. Quindi dal punto di vista psicologico è stato veramente difficile ed è ancora molto difficile. Rispetto alla diagnostica purtroppo molte persone si sono trascurate quindi i normali esami del sangue o altre indagini diagnostiche non le hanno fatte e quindi sicuramente abbiamo una percentuale di persone che hanno scoperto di avere poi delle malattie tumorali improvvisamente perché non hanno fatto screening accurati in questi anni. Quindi sì, sicuramente è stata complessa, ma è stata complessa anche per l'associazione. Abbiamo purtroppo perso tanti volontari perché si sono allontanati non potendo fare attività e abbiamo bisogno di nuovi volontari. Quindi abbiamo bisogno di ritornare alla vita dell'associazione e anche questa giornata del 21 giugno serve proprio per risentire la vicinanza delle persone anche all'associazione. Grazie. 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 Grazie.